salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo piccolo ciclo di tutorial ci occuperemo questa volta di sketchup che è un software per la modellazione solida molto interessante e molto semplice da usare il primo passo è quello di recuperarlo sulla rete come esempio modelleremo una semplice panchina di arredo urbano per poi stamparla con la stampante 3d buon divertimento con sketchup effettuiamo la ricerca di sketchup digitando appunto sketchup digitiamo sketchup free seguiamo il link di sketchup gratuito questa è la schermata dove ci spiega tutti i dettagli che cos'è come si usa e soprattutto come si crea l'account ricordatevi che è necessario creare un account io l'ho già fatto per cui non me lo chiede posso quindi accedere alla modellazione si tratta di un programma su cloud anche i vari file vengono archiviati su cloud e si presenta in questo modo ci sono i classici tre assi x y e z la z e la blu la x e la verde e la y e la rossa a sinistra troviamo la palette dei comandi di editing e di drawing a destra troviamo la palette dei comandi che gestiscono l'interfaccia siccome abbiamo deciso di disegnare una panchina di arredo urbano andiamo ad aprire questo pulsante per dare le misure quindi noi lavoreremo in centimetri sicché attiviamo questo pulsante e avremo una precisione di zero cifre dopo la virgola per una questione di comodità se accendiamo tutti questi pulsanti avremo a disposizione la gestione completa dell'interfaccia cominciamo da questo che l'istruttore quindi ogni cosa che noi facciamo viene immediatamente rintracciata qualunque pulsante noi andiamo ad attivare viene rintracciato e viene spiegato quindi attiviamoli tutti informazioni sull'entità qui abbiamo gli aggiornamenti i componenti materiali e colori stili di visualizzazione abbiamo i layer abbiamo i punti di vista come vedete c'è sia la prospettiva e sia la proiezione parallela lavoriamo in prospettiva e qui abbiamo i tagli di sezione i piani di sezione gli assi e le linee guida quindi scorrendo in questo modo col tasto sinistro del mouse possiamo accedere a tutta la gestione decidiamo di lavorare esattamente in questa vista vista iso anteriore destra ecco che poi praticamente è già quella impostata per la gestione dello schermo ricorriamo a questo tasto come vedete c'è una tendina con la rotazione il pan cioè lo spostamento zoom finestra zoom e zoom estensioni quindi questo tasto si attiva in questo modo e questo permette di ruotare si può fare anche con la pressione della rotella del mouse se invece voglio fare degli spostamenti dello schermo utilizzerò il panno col tasto sinistro posso spostare in questo modo questo tasto è il selettore ovvero il cursore che permette di selezionare le entità di default compare l'omino per avere il confronto con le dimensioni umane io lo seleziono in questo modo cliccando col tasto sinistro apro una finestra da destra a sinistra viene evidenziato e posso cancellarlo detto questo inizio a modellare la panchina in vista laterale durante la modellazione scopriremo i vari comandi cominciamo a tracciare il laterale della panchina utilizzando il primo comando importante che questo contiene linea e contiene disegno a mano libera per tracciare la nostra linea andremo in questo punto e saliamo lungo l'asse z ecco come vedete in basso a destra si attiva la lunghezza siccome desidero che venga 75 centimetri ma anche 80 questa è semplicemente una prova posso digitare la tastiera allora digiterò 80 e darò invio per tracciare la successiva linea osserviamo che quando essa è parallela all'asse y ne assume il colore quindi vedete on red axis quindi posso dare una misura per esempio darò 20 centimetri supponendo che l'altezza della seduta della panchina sia di 45 centimetri posso scendere ora di 35 lo stesso farò nella direzione y e sposterò di 45 centimetri i passi successivi saranno molto più semplici perché basterà vedete agganciare l'asse e poi continuare per esempio verso la chiusura oppure articolare meglio la nostra panchina ora continuiamo lungo l'asse x con uno spessore di 15 centimetri risaliamo ancora fino a questo punto leggo 45 centimetri che significa che mi devo spostare di 30 quindi do a tutta la panchina uno spessore di 15 centimetri ingrandiamo con la ruota del mouse e vado ad agganciare questo punto quindi come vedete si forma una linea tratteggiata che mi consente l'allineamento per tracciare la successiva linea uso il uso il pan per spostarmi ecco e quindi ritorno al comando da questo punto allora automaticamente mi aggancia il punto che desidero quindi scendo di 10 centimetri e poi chiudo in questa maniera voi direte che è una forma strana in realtà c'è un motivo che capirete nel corso dello sviluppo appena chiudo un contorno si forma una superficie che è quella bianca vediamo adesso degli strumenti di editing e precisamente cominciamo a cancellare qualche entità che non serve quindi prendo la gomma e cancello questo pezzo di linea come vedete le linee vengono poi scomposte vengono tagliate a secondo dei punti di intersezione l'altra cosa che voglio fare è spostare con questo tasto quindi se apro il tasto trovo spostamento rotazione e scala quindi applico lo spostamento voglio spostare questi nodi per cui intendo diciamo spostarli in modo tale che ci sia un allineamento con questa con questa misura qui cioè vi voglio spostare a questo livello quindi vedete prendo la misura e vado a inserire lo spostamento anche qui considero il nodo clicco col tasto sinistro e dopodiché vedete l'allineamento è molto automatico in questo modo e quindi ho questa vista fatta così per controllare per controllare posso mettermi in proiezione parallela e guardarla così come vedete c'è qualche discordanza per evitare una serie di scomodi spostamenti semplicemente vado a tracciare una linea così allineata con questo ecco e poi chiudo le linee ridondanti possono essere tranquillamente cancellate con la gomma eraser quindi cancello questa 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 e questa ora vi chiederete come faccio a creare il vuoto qui semplicemente aggiungendo le linee che mancano ritorno nella vista assonometrica precedente e mi rimetto in prospettiva ora voglio ricreare il vuoto che c'era prima userò il comando copia quindi vedete il comando copia è incluso nello sposta è semplicemente basta collo selettore selezionare la linea da copiare e poi applicare lo sposta in questo modo e contemporaneamente premere controllo quindi viene agganciata la linea nel suo punto centrale dopo di che la posso spostare vedete e li leggo la misura dello spostamento per me deve essere 15 stessa cosa farò con questa vado a selezionare adesso l'altra linea perché intendo spostarla verso l'alto sempre di una quantità nota quindi attivo il comando sposta prendo il punto centrale e salgo verso l'alto vedete di 15 centimetri stessa sorte toccherà a questa se non mi ricordo di quanto la devo spostare basterà attivare qui la misura quindi vado a misurare da questo punto a questo punto mi risultano 20 centimetri ne consegue che la prossima linea dovrà essere spostata di 20 centimetri attivo il tasto di selezione seleziono la linea che mi interessa copiare premo il tasto control vedete attivo il tasto sposta aggancio la metà perché automatica e la sposto di 20 centimetri basta leggere in basso a destra nel caso non riusciamo a centrare col mouse ora ci sono riuscito basta levare il dito dal control e inserire 20 manualmente e poi fare invio a questo punto riattivo il selettore e per deselezionare l'entità basta cliccare fuori dall'entità ora cancellerò le parti che non mi servono quindi userò la gomma e quindi cancellerò queste parti che come vedete non servono più e ho riportato la nostra diciamo la seduta della nostra panchina allo stato che mi interessava per vederla meglio attivo la vista frontale eccola potete notare che la spalliera è più grossa ora siccome voglio fare una panchina particolare ritorno nella situazione di prima vado a tracciare delle ulteriori linee per dare un altro aspetto ecco per esempio così quindi traccio questa ulteriore linea e poi cancello quelle che non mi servono come vedete anche l'area viene ridimensionata è venuto adesso il momento di salvare il file prima di procedere ad altre operazioni in realtà l'avremmo dovuto fare anche prima per salvare attivo questo tasto mi compare una schermata dove mi chiede di dare un nome al file come vedete qui giù richiede il nome lo chiamerò progetto panchina questo file andrà salvato nell'area di sketchup quindi dovrò cliccare qua ce n'è già uno che si chiama panchina di prova qui mi sono addestrato io e quindi dico salva qui nel prossimo tutorial riapriremo il file faremo delle ulteriori modifiche arrivederci al prossimo tutorial